Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream, io sono Ratorix e questo è Trollface Quest. Allora, mi avevate chiesto di farlo? E ovviamente facciamolo. Comunque, prima di cominciare avrei da dirvi un paio di cosette. Soprattutto uno, non è che ho tanta familiarità con i giochi Flash e roba varia perché... che avrò giocato a uno o due giochi di questo tipo quando avevo sei anni. Ma nonostante tutto, vabbè, perché preferisco altri tipi di giochi. Ma dai, facciamolo. Beh, quindi, i giochi Flash non è che ci vado matto, ma poi aggiungiamoci pure i Troll. Fidatevi che viene una cosa bellissima, stupenda, ma non perdiamo tempo e vediamo di cominciare subito. Troll... ma questo è l'enigmista. Do you like games? Sì, mi piacciono i giochi. Spegnere la TV. Allora, sono molto fortunato con queste decisioni, proprio fortunatissimo, vi potete fidare di me. Scelgo questo. Ok, quindi ragazzi, se avrete da disinnescare una bomba non chiedete aiuto a me. Vabbè, a sto punto prendiamo quello blu, no? No, e ovviamente, quando ho una scelta su tre, prendo prima quelle sbagliate, essendo sfigato com'è, sono. E no, allora com'è? Come faccio a spegnere? What the fuck? Sì! Pur io sono un genio. Vabbè, andiamo avanti. Uh, bene, 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 bene. Dovremmo scegliere tra la pillola blu e la pillola rossa. In pratica fanno la scena stessa di Matrix. Allora, se dovrei scegliere tra la pillola blu e quella rossa? La blu, per motivi... Chi capisce capisce, non mi serve. Quindi prendo quella rossa. Cazzo te ridi tu? Ho capito, sono morto. Scusa, ho capito, mi serve quella blu. Scusa. Ok, sono morto anche con quella blu. Quindi andiamo sempre meglio. Perché sto giocando a questo gioco? Raga, perché mi... Perché mi hai detto di giocare a questi giochi? Madonna. Allora, deve andare in bagno, scommetto, proprio perché ovviamente, a meno che non sta ballando, secondo me deve andare in bagno. Quindi, questo è quello per i maschi? Sì. Ed ovviamente è chi... Oh, aspetta, ma c'è la chiave. Vai, prendi la chiave. Sì, la stai usando nel modo giusto, ti puoi fidare proprio. Ah, mettitela nell'occhio! Questo è quello delle femmine, certo. Ed ovviamente non va. Fisciamo nel vaso. Sì! Fuck! La pianta si è vendicata. Che devo fare? Che ho bloccato. Ho capito! Scusate! What? No! Sì! Ok. Level complete. Cosa bisogna fare qua? Uniamo. No, ma sono sfigato. Cioè, pure io che mi vado ad ammazzare da solo con gas. Che devo fare allora a sto punto? Scappa via. Torna... What the fuck? Raga, perché quando lo clicco qua, fa versi strani e cambia aspetto? Vabbè, comunque quello là era gas, giusto? Quindi, vediamo, forse adesso funziona. Sì, ma sono un bug. Ma comunque... No, dai, non perdiamo tempo. Ehm... Che cos'è? Che cos'è? Ci stiamo morendo. Ho visto che si poteva cliccare la nuvole! Ovviamente non la dovevo cliccare! Ah, allora... Clicchiamo questi tizi qua. Sì! Che devo fare? No, ma non si fa! Ah, la pipì così sulla gente. Non è carino, eh? Vabbè, chi se ne... Ehm... Il toro, il toro, il toro, il toro, il toro, il toro... Viaccio... Oddio, l'hai ucciso proprio... Dov'è il WWF quando serve? Ehm... No, allora... Alziamo la spada. Via, c'è, dai. Ora ti ammazzo... Non ti ammazzo per niente perché sono sfigato. Ma che c'ha sul collo? No. Madonna. What the fuck? Cosa stai facendo? Ti sta trasformando così a caso. Cosa devo fare? No! Dammi la... Bacchetta brutta zoccola. Tro... Lo muori! Ok, l'abbiamo trasformato in un insetto che non saprei manco che cos'è. Ehm... Oddio! Oddio! Ci sono insieme. Porca trota, perché non vai avanti? Madonna, madonna, le macchine comprate dai cinesi, ecco perché dico di non doverle comprare. Vedete cosa succede? Oddio, no, mi stanno uccidendo. Vai via! What the fuck? Non posso cliccare. Ho pure cliccato roba random. Benissimo. Ehm... Non capisco perché si era fermata la macchina e non capisco come ho fatto a vincere questo livello. Comunque... Boh... Oddio, che devo fa? Clicco qui. Ho capito, ma non deve andare avanti. Dai, suicidiamoci! Cioè? Raga, il livello più utile del mondo. Clic ten times of control phase. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Come ho perso! Un'altra volta. Ehm... Vabbè, qua. Cazzo di ridi, cazzo... No, perché ho perso? Ma dai! Ho capito, ma che devo fare. Che ho fatto? No, un attimo, che ho fatto? No, non voglio fare restare perché... Qualcuno mi spiega come ho fatto questo livello? Vabbè, ehm... Dovrei cliccare? Ok, forse non dovevo cliccare. Oh, cinquanta e cinquanta, dai! Chi vuole essere lo sfigato, piuttosto che milionario? Ehm... Io direi di chiamare a casa... Così... Pronto, mamma? Ti volevo dire che sto per morire. Cinquanta e cinquanta a sto punto? Che devo fare? Nooo, ma dai! Ci hanno diviso in due! Madonna! Madonna! Ma se lo clicco muoio. Ah! Ragazzi, le conclusioni di questi giochi sono proprio... Ci rimani di merda, non sai cosa spiegare? Cioè, non sai cosa dire, scusate. Pure io, furbo. Che cosa devo fare? Devo andare verso di quello, verso lui? Però è proprio difficilissimo questo labirinto. Ehm... Clic next level to continue... Che è successo? Allora, di nuovo, questa cosa bisogna prenderla. È complicatissimo, no? Ma forse vado anche qua su. Congratulation. Clic next level to continue... E l'ho capito! Io lo clicco, ma non me lo fa cliccare. Finish. Congratulation. Clic... Clic... Ah, un attimo, si può andare pure di qua. Ok. Benissimo. Next level. Ok. Next. Eh, macchina. Dai, Grand Theft Auto. Chi se ne frega. Due mila e... Ok, 1900. Magari. Piuttosto che duemina. Guardate, la qualità, la qual... Oddio, che devo fa? No, sono esploso. Benissimo. Eh... Guardate, mamma mia, la mia abilità. La mia abilità nella guida. Guardate tutte queste skill. Madonna, madonna... Spara, spara, spara! No, non spara per niente, ovviamente. Dai, dai, che questa volta lo posso fare. Me lo sento, me lo sento, me lo sento, sì! Guida più in fretta. E cosa fa? Ok, benissimo. Menomale che non ho girato. Eh, oddio, che devo fa... Oh, what the fuck? Ma io non sto a commentare. Cosa serve? Oh, che so. Oh, ferma, ferma, fermati, 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 porca... Click the green button ten... Cento times. No! Stepu! Magana quanto tempo che dura sta cosa. Allora, ok, adesso dobbiamo stare attenti. 5, 4, 3, 2, 1... Ok. Va bene, ce l'abbiamo fatta. E next... Che cos'è questo... Beviamo questa bottiglia che sembra bella. Ok, non dovevamo berla a sto punto. Questa? Che sono elisir? Sì, è elisir da morte. No! Vabbè, se non funziona quella facciamo questo. E che cavolo, non funziona niente! Allora, 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 allora. Con calma, con calma, con calma. Qui ci sono le motoseghe e tutto ci sta. Quindi sento che tra poco muoio. Cosa devo fare? Magari devo cliccare qualcosa qua che non ci sta. Clicco il muro, che ne so, dove cavolo devo cliccare. Oh, 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 ho visto! Sì, preso, dai. Ok, allora, 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 allora. Next. Find ten... Oddio, the troll face. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Poi? Oh, eccola. No, ancora, nove. Ehm, che cazzo tu? Raga, se è questo, mi incazzo. Allora. Eh, sassi. Scusa! Scusa, non volevo. Non... Cioè, non ti volevo cliccare. Che devo fare? Devo cliccare su di lui? Ah, ma c'è sta scritto jump. Eh, pure io sono un genio. Vai, salta. L'hai preso benissimo. Proprio preso in pieno. Complimenti, amico mio. Allora, 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 allora. No! Aspetta, mi dimentico sempre di saltare. Sono un genio. Vai, salta, 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 salta. Adesso. Sì! Ok, va! Ok, tre, due, uno. Ok. Eh... What the fuck? No, allora, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Questa cosa ce la devo fare. Vai, salta, uno. Ma, allora, che devo fare? Là. Devo cliccare? Sono sassi normali. Mi sorprende questa... Ah, ho vinto. Ma va bene, tanto, chissene, no? Eeeh... Oddio, subito le lanci. Scusate, ho sbagliato una nota soltanto. Non è che... Allora, di nuovo, forse devo seguire. Ok, ok, allora, qua, 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 qua. E poi come cavolo faccio a prendergli tutti? No. Allora, di nuovo. Oh. Eeeh... Oddio, di nuovo al punto di partenza. Mica vogliamo ricominciare tutto quanto da capo, vero? Clicca. Eh, vabbè, clicchiamo qua. Basta che non muoio. Ok. Trololonic. Ah, bisogna accenderlo. Va benissimo. Ciao, di nuovo. Sì, mi piacciono i giochi. No, non di nuovo, e basta. Ah, ammazza proprio pure lui. Stesso parere. Il Troll Face Quest completed. Va benissimo. Quindi abbiamo completato pure questo gioco. Allora, 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 andiamo alle conclusioni. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi e condividete il video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Grazie.